interna la sua, il cross Traore buon controllo di Traore la vuole Koulibaly che sarà un po' fermato non si può aspettare più è riuscita a ritrarre la gamba in tempo C'è Caroni di testa prima di Zagiu Maier una volta, Traore la seconda Koulibaly Traore, non passa Traore puntare Ghiglione Ghiglione prova a rimanere con lui Soleri, senza fallo Traore raccoglie al limite, Traore cerca idee allarga solito uno contro uno con Ghiglione c'è anche Pichel in zona, Traore doppio passo insistito Traore sposta, Traore calcio! uscita dribbling elegante non controlla Traore, alza e allarga palla buona per Mancuso Traore ancora gasato con il dribbling Mancuso lungo troppo grazie a tutti